Accendi il nuovo anno con il Carosello Disco Love Dance. Martedì 31, Capodanno. Veglionissimo fino al mattino. Ospiti Sally Blue, Michelle Brown, Brigitta B. Più tantissimi stettacoli con le ragazze Carosello. A mezzanotte brindisi per tutti, ricco buffet per tutta la notte a partire dalle ore 23. Lotteria di Capodanno con tantissimi omaggi. Giri di tequila gratis ad ogni ora. E tanto divertimento per accendere alla grande il nuovo anno. DJ Voice Lele Tura. Ingresso 30 euro compresa prima consumazione. Accendi il 2020 al Carosello. Siamo a Casalecchio di Reno, Bologna, Via Bazzanese 95 terzo. Info 331 20 86 855. Carosello sexy disco. Happy New Year. Tanti auguri. www.carosellodisco.it C escapese. Grazie a tutti